È rimasto bloccato ad Arezzo durante il lockdown oltre quattro mesi di stop per il Circo Orfei, uno dei più grandi se non il più grande adesso a livello italiano dal punto di vista numerico, sia per le persone che ci lavorano che per gli animali, uno zoo praticamente al completo che però ha ricevuto la grande solidarietà degli aretini e anche delle associazioni di categoria, delle fattorie per quello che riguarda soprattutto il cibo per gli animali. Dopo questi mesi così duri si riparte il 2 di luglio. Noi un quattro mesi di stop non li abbiamo mai avuti, noi massimo due o tre giorni, però in quei due o tre giorni comunque lavoriamo, ci spostiamo, facciamo dei movimenti, questa volta eravamo proprio fermi e noi siamo gente che non riesce a stare ferma, abbiamo sofferto tantissimo. Chi si occupa di animali nei dintorni è stato veramente solidale col circo, ci hanno portato veramente dalla crusca al fieno, alla paglia, alle mele, alle carote, di tutto. Di questo siamo molto contenti e adesso per questo vogliamo ricominciare proprio qua, dove ci siamo fermati perché gli ultimi spettacoli non avevamo potuto farli. Abbiamo la possibilità di ospitare 200 persone a spettacolo, il tendone è grandissimo quindi non saranno mai a contatto. Questo è uno dei circhi più grandi attualmente presenti in Italia. Al momento del lockdown erano oltre 70 le persone tradette ai lavori ed artisti rimasti bloccati, la presenza degli animali in un numero così importante necessita di tanta mano d'opera. Gli spettacoli però nella prima giornata di ripartenza avranno un prezzo ridotto proprio per ringraziare Arezzo della costante solidarietà. A prezzi ridottissimi per ringraziare così la popolazione con la solidarietà che ci hanno dato ed incominciare anche noi a guadagnare qualcosa per mantenerci perché dopo tanti mesi incomincia ad essere dura la situazione.